Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta! La PostePay è forse uno dei prodotti di poste italiane più conosciuti e utilizzati, in quanto è uno strumento di pagamento e di gestione del denaro pensato per semplificare la vita. La casa madre ha voluto pensare a soluzioni diverse per ogni necessità, e per questo esistono più tipi di PostePay, con notevoli differenze fra una e l'altra. Potresti, quindi, avere un dubbio. La PostePay è una carta prepagata, di credito o di debito? Ecco qualche utile informazione per fare chiarezza. PostePay è una carta di credito o debito? In realtà, si tratta di una domanda malposta, perché PostePay può essere una carta prepagata o una carta di debito. Come dicevamo, infatti, in commercio, esistono diversi prodotti che hanno lo stesso nome, ma con caratteristiche differenti. Tipologie di PostePay PostePay classica Una carta prepagata connessa al circuito Visa Electron, che consente soprattutto di effettuare pagamenti online e offline senza un collegamento diretto con il tuo conto corrente. PostePay Evolution Sostituisce quasi completamente un conto corrente, visto che è dotata di IBAN, ed è un ibrido tra una carta prepagata e una carta di debito. Carta di debito PostePay Si associa al conto corrente e consente di prelevare denaro contante ed effettuare spese e pagamenti nei negozi fisici. PostePay Business Un prodotto che presenta delle funzionalità aggiuntive pensate per una clientela aziendale. Insomma, una vasta gamma di prodotti dal nome molto simile fra loro, ma dei quali conviene conoscere le differenze, per scegliere il più adatto alle tue esigenze. Differenza tra carta di debito e carta prepagata Forse è opportuno spiegare nel dettaglio quali sono le differenze fra una carta di credito e una prepagata, oppure una carta di debito, così da individuare la tipologia di PostePay più adatta a te. La carta di credito è uno strumento di pagamento che deve essere necessariamente collegato a un conto corrente, intestato allo stesso titolare. La sua caratteristica principale è quella di consentire acquisti anche senza denaro presente sul conto, poiché il rimborso degli stessi avviene in un secondo momento, generalmente a 30 giorni. La carta di debito, invece, è sempre collegata a un conto corrente, ma a un utilizzo più limitato, in quanto puoi sfruttarla solo per prelievi di contanti, pagamenti di spese e acquisti in negozi fisici. La sua validità è strettamente legata alla disponibilità di fondi che hai sul conto. Infine, la carta prepagata è un prodotto ibrido, infatti non richiede il collegamento con un conto corrente e può essere utilizzata per qualsiasi spesa, come gli acquisti online o quelli fisici. È necessario, però, che al suo interno ci siano i fondi necessari all'acquisto, di solito trasferibili tramite ricarica. Iscriviti al canale e visita carteprepagate.org per le migliori carte del momento.